Un'esima edizione del premio alla virtù civica panettone d'oro 2020. È bello vedere il teatro così pieno, siete tanti, siete numerosi, sarete sicuramente un pubblico caloroso nel corso di questa serata. È una giornata veramente importante perché oggi Milano premia e riconosce davvero l'impegno di dieci cittadini, dieci persone che nel corso di tutta la loro vita, parte della loro vita o anche negli ultimi mesi, si sono distinti davvero per il loro impegno nell'ambito sociale e nell'ambito civico. Impegno in vari campi, dalla tutela dell'ambiente fino alla vicinanza con le persone più deboli o più bisognose. Nel corso della serata ovviamente scopriremo quali sono i vari impegni che le persone hanno preso nella loro vita. Quello che succederà questa sera non sarà soltanto il premio che verrà dato a dieci cittadini, ma verranno premiate anche dieci associazioni che nel corso degli ultimi dodici mesi si sono distinte proprio per portare avanti questi principi così importanti nella nostra vita. E poi, e poi, alla fine ci sarà anche una sorpresa, ma non vi posso dire niente, me l'hanno praticamente vietato, quindi rimanete incollati alle vostre poltrone perché appunto succederà qualcosa di davvero molto molto importante. Allora, prima di cominciare con le premiazioni, io so che ci sono un po' di saluti che ovviamente vengono fatti oggi e comincerei addirittura dal presidente di Comieco che è qua presente, dov'è? 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 Eccolo qua. Buonasera presidente, direttore, direttore, mi scusi. Facciamo un applauso al direttore di Comieco Carlo Montalbetti che è qua con noi e voleva appunto darvi il benvenuto. A lei la parola. Grazie mille, ma il mio ruolo è quello della valletta. Per iniziare perché mi tocca ricordare intanto che il premio alla virtù civica, Panettone d'Oro, è nato nel secolo scorso, quindi ha una storia alle spalle importante ed è nato proprio per i motivi che sono stati illustrati prima attraverso una formula di per sé molto semplice, molto semplice che da allora poi è stata nel tempo rafforzata e persino ed estesa, cioè quello di basarsi sulle segnalazioni che arrivano direttamente dal territorio. Prima solo il Comune di Milano e poi si è allargato anche ai comuni della Grande Milano. E questo processo è un processo che ha visto nel tempo coinvolte sempre più numerose le associazioni. Si è formato un cartello che vede presenti, cominciando dal coordinamento dei comitati milanesi, che è stato un po' l'ideatore di questa iniziativa, tutta una serie di altre sigle che rappresentano parti della città molto significative e anche di aziende e consorzi che vedono nel, diciamo così, spirito civico una leva straordinaria per quanto riguarda la capacità di non solo creare condizioni di benessere, dello stare bene assieme, ma anche le condizioni giuste per essere competitivi in un modo corretto. Milano, da questo punto di vista, nei suoi cittadini e la Grande Milano, ha davvero il suo oro, la sua miniera. Riuscire in tutti questi anni a identificare, più ormai credo di 400 tra profili che sono stati premiati, 500 mi ricordo adesso, che sono stati premiati, fatti conoscere, credo che sia un piccolo contributo, ma molto utile a far conoscere meglio come sono fatti i milanesi, e intendo anche quelli ariosi, e quindi a dare anche, non solo una speranza, ma una certezza di come questa città può essere molto competitiva. Ed è una città che sa essere competitiva, ma anche sa essere forte nel suo legame civile, ed è un motivo per cui ogni anno abbiamo fatto una fotografia della città, non solo per quanto riguarda lo stato del senso civico, ma anche su alcuni temi particolarmente forti. Quest'anno l'abbiamo dedicato al tema ambientale, che è un tema strategico, fondamentale. Milano può fare, ha fatto, ma può fare ancora veramente molto, e questo molto lo può fare partendo proprio dalla sua rete, la sua rete sociale dei cittadini, un caso su tutti fondamentale, e la capacità che i milanesi, con la collaborazione delle aziende di servizio, in questo caso stiamo parlando dell'AMSA, sono riusciti a creare attraverso, per esempio, la raccolta differenziata. Siamo primi in Europa. È un modo, questo, che dà un indicatore per rendere concreto, non semplicemente una parola, quella che si chiama economia circolare. E quest'anno, non solo l'abbiamo dedicato all'ambiente, ma come ogni anno, abbiamo chiesto una riflessione più in generale su quello che è il valore del senso civico, a personalità che possano farci riflettere tutti assieme. Quindi un'occasione, certo, di riconoscimento, di festa, ma anche di riflessione, perché i valori del cosiddetto civismo sono cambiati, e anche in modo piuttosto dirompente, pensate soltanto all'uso dei social nell'arco di un decennio, sostanzialmente, cambiando quindi alcune regole e alcuni valori. E questa volta l'abbiamo chiesto a Ferruccio De Bortoli, che ha una grandissima esperienza, non solo come giornalista, ma proprio come conoscitore, non solo di Milano, ma di una rete molto più grande, che è quella sicuramente del Paese, che è il nostro Paese, l'Italia. Ecco, quindi io credo che questa occasione di oggi, che ci vede qui alla Triennale, per la seconda volta ne siamo grati alla Triennale, che ha fatto una scelta, credo di grande valore, cercando di diventare una sorta di luogo della città aperto, che non parla solo di architettura, di design, ma anche di come queste si possono poi incrociare con la vita di tutti i giorni. Quindi, ringraziando la Triennale, io a questo punto do la parola invece al nostro presentatore ufficiale per iniziare i lavori e vi ringrazio per l'attenzione e il tempo che vi ho preso. Grazie. Grazie, grazie mille al direttore di Comieco, Carlo Montalbetti. Allora, prima di cominciare con le premiazioni, ci sono delle personalità molto importanti che sono qui con noi questa sera e che volevano salire sul palco proprio per darvi un saluto di benvenuto. E io comincerei con il direttore artistico della Triennale di Milano, ovvero l'architetto Lorenza Baroncelli. Un applauso. Buonasera, buonasera a tutti. Devo dire che sono molto emozionata. Mi capita spesso di parlare qui in Triennale, ma oggi la sento e la sentiamo tutti noi di Triennale veramente come un momento speciale. Quindi sono qui ovviamente a nome del presidente Boeri e di tutto il consiglio di amministrazione di questa istituzione per portarvi i saluti e darvi il benvenuto. Ma soprattutto per direvi che la vostra presenza qui per noi è un'occasione di grandissimo orgoglio perché, come diceva prima di me il direttore generale, l'attenzione al territorio e all'ambiente sono sempre di più un aspetto della città che interessano la Triennale. Quello che la presidenza Boeri sta cercando di fare è quello di sicuramente mantenere un livello altissimo di produzione di contenuti del mondo dell'arte e dell'architettura, ma fare sì che questi contenuti possano essere a servizio della città. Rispetto all'ambiente abbiamo, come molti di voi probabilmente già sanno, conchiuso di recente la ventiduesima Triennale Internazionale, curata da Paola Antonelli del MoMA e che ragionava proprio su come il design e l'architettura possono contribuire a restaurare un rapporto distrutto tra uomo e natura. Ma questo è stato solo un punto di partenza che poi ha avuto una seconda tappa importante a settembre nel momento in cui abbiamo ospitato il secondo forum sulla forestazione urbana organizzato in collaborazione con la FAO e cercando in qualche modo di supportare e sostenere il lavoro di forestazione che il Comune di Milano ha avviato con gli attori della città. Ma questi sono solo due tappe di un percorso più lungo che ci porterà all'apertura della ventitresima Triennale Internazionale. Ma in realtà non è solo l'ambiente uno dei temi importanti di questa Triennale, ma per esempio è l'attenzione alla città. Come molti di voi già sanno, abbiamo di recente aperto in collaborazione con il Sindaco e con l'assessore Maran, abbiamo spostato l'Urban Center qui all'interno della Triennale perché un po' con la volontà e l'obiettivo che l'Urban Center non fosse solo uno spazio di narrazione delle attività del Comune, ma perché diventasse un vero e proprio centro di ricerca dove le tematiche più importanti per la città potessero avere lo spazio di essere approfondite, studiate, criticate, discusse e restituite alla città stessa. Ma contemporaneamente abbiamo di recente aperto uno skate park all'interno della Triennale, molti di voi si domanderanno ma che c'entra uno skate park dentro un'istituzione culturale e l'obiettivo era proprio quello di riuscire a parlare ad un pubblico, che è un pubblico di giovani, molto spesso di persone che vivono nelle periferie e cercare di fargli conoscere, visitare e utilizzare la Triennale come una casa e ovviamente fargli vivere la bellezza perché questo crediamo è una delle prime missioni. Ma così contemporaneamente, poi mi fermo perché non devo fare l'elenco di tutto il mandato Boeri perché so che non è neanche l'occasione, ma un altro progetto su cui stiamo lavorando è con Jacinto Siciliano, cioè il direttore del carcere di San Vittore, affinché la Triennale doni al carcere di San Vittore in collaborazione ovviamente con la Cariplo alcuni progetti di ristrutturazione di alcuni degli spazi fondamentali dell'istituto carcerario. Tutto questo per dirvi che tanti dei valori che la Presidenza Boeri sta portando qui in Triennale sono proprio quelli che oggi sono rappresentati da tutti voi e quindi ci tenevamo a ringraziarvi per essere qui e soprattutto a invitarvi a sentire questo luogo come casa vostra. Grazie. Grazie mille, grazie mille direttore davvero, grazie. Allora, adesso è arrivato il momento di chiamare sul palcoscenico proprio per portarvi un saluto di benvenuto l'assessore alle politiche sociali abitative del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti. Eccolo qua. È appena arrivato l'abbiamo subito rubato dalla poltrona. Buonasera, prego si accomodi pure. Certo, certo. È tutto suo il leggio, prego. Il leggio è mio ma non c'è scritto niente, quindi è complicato. Buonasera a tutti intanto. Sì, arrivo un po' di corsa ma ci tenevamo ad essere qui per tante ragioni. La prima, vi direi, è legata al fatto che vogliamo testimoniare con voi, perché siete testimoni insieme a noi di questa storia, del fatto che l'ambiente, che è un tema che tornerà in modo potente questa sera nel racconto e nella restituzione che faranno i colleghi che sono qua con me sul palco, l'ambiente in una città è un ambiente complicato. È ambiente naturale ma è anche ambiente specialmente antropizzato, cioè ambiente in cui l'uomo ci ha messo le mani, ci ha messo anche i piedi e in alcuni casi lo fa in modo pesante, in un modo che a volte diventa anche quasi irreversibile. E qua da triennale questo messaggio è partito con grande forza sull'attenzione per questa dimensione della cura, del rispetto dell'ambiente, ma voi sapete che l'ambiente in città è anche fatto di società, è anche ambiente sociale, è ambiente culturale, dello sport, è ambiente della solidarietà, è ambiente della coesione. E quindi siamo qua, credo, a restituire questa complessità di un ambiente delicato, di un equilibrio particolare, instabile, che ha bisogno di tutti voi del grande sforzo, dell'amministrazione, di tante istituzioni, ma sicuramente di questo tessuto minuto, fine, di questa grana che sa lavorare, che sa lavorare per gli altri, che si dedica con generosità a chi ha più bisogno, che è più fragile e vulnerabile. È un racconto complesso quello che ci restituiamo ogni volta che ci incontriamo e che vi incontriamo. È un racconto che porta allo sforzo dell'amministrazione, che è uno sforzo del pubblico, guai, irrinunciabile, ma che non potrebbe fare a meno del contributo che invece sapete dare voi quotidianamente, in modo determinato, insistente e coraggioso a questa città, che credo sia forte anche perché ci siete voi a renderla tale. Quindi grazie mille da parte dell'amministrazione del Sindaco, di tutta la Giunta e del Consiglio per quanto fate tutti i giorni per rendere Milano più grande, più forte, più coraggiosa e più capace di essere aperta a tutti. Grazie ancora. Grazie mille Assessore. Noi lavoriamo sul palco, abbiamo preparato una sedia per lei, così almeno si scambiano i posti. Ha scelto di stare là. Adesso invece voglio chiamare qua all'Eggio per portarvi i saluti il Presidente della Commissione Statuto della città metropolitana di Milano, Arianna Censi. Buonasera. Buonasera. Grazie perché la Presidente della Commissione Statuto l'ho fatta tre anni e mezzo fa e quindi è bene, vuol dire che c'è un ricordo indelebile. Oggi invece ho il privilegio di rappresentare i 133 sindaci che compongono la città metropolitana di Milano e farne il vice sindaco. E quindi sono qui perché, come ogni anno, e ringrazio Salvatore Crapanzano, ringrazio Montalbetti, ringrazio tutti voi, perché credo che, come diceva Gabriele Rabaiotti, i luoghi dove stiamo hanno un'importanza per la loro qualità, perché sono belli o sono brutti, sono manutenuti o sono abbandonati. Ma sono importanti se esiste il sentimento, la condivisione, la comunità. E io penso che questo premio fa un'operazione che mette insieme, in questo caso, preservare il bene più grande che abbiamo, che sono i luoghi dove viviamo, la qualità dei luoghi dove viviamo, l'importanza dell'acqua che beviamo, dell'aria che respiriamo, e fatto insieme. Le istituzioni hanno un compito fondamentale, ciascuno per la sua competenza, ciascuno per le sue funzioni, ma non hanno senso se le linee che intendono seguire non sono condivise, costruite e non hanno una coerenza in ciascuno degli elementi che la compongono, dalla grana più fine a quella macro strategica che riguarda tutto il territorio, non solo della città metropolitana, ma dell'area metropolitana e più in generale del nostro Paese. Però io penso anche che ci sia un tema individuale. Io penso che una comunità è fatta di individui che sono in grado di trovare dentro di sé la voglia, la forza, il divertimento, la gioia, che a volte trae origine da un grande dolore, da una grande difficoltà, per mettere a disposizione energie e intelligenze per migliorare la vita degli altri. Ecco, io penso che questo premio sia in grado di individuare persone e associazioni, ma poi le associazioni sono fatte di persone. Quindi avevo pensato di iniziare questo mio intervento, che però è già finito, vi tranquillizzo, riportando una frase di Bertolt Brecht che dice, sventurata la terra che ha bisogno di eroi. A me Bertolt Brecht piace molto. Su questa frase invece ciò, come dire, penso invece che noi abbiamo bisogno di eroi e di eroine. In questo tempo, e poi il concetto di eroismo è, ciascuno se lo misura come vuole, è il gesto quotidiano, è la capacità di essere coerenti e dire a quello che si comporta in una maniera non corretta, avere il coraggio di aprire una relazione anche conflittuale per modificare quel comportamento, essere eticamente rispettosi della propria storia, è l'impiegato che aiuta la persona allo sportello, è l'istituzione che si semplifica, è l'amico che ti aiuta, è l'associazione che ti dà una mano. Ecco, io penso che avere dei riferimenti così sia in un tempo difficile, difficile come questo, importantissimo. E penso che Milano ha in questo una grande forza. numerica, di qualità e anche di energia. E penso che anche questo possa essere un esempio che possiamo portare a tutti coloro che incontriamo, anche nelle nostre relazioni nazionali, internazionali. E la forza di questa città sono le persone che la abitano. Vi ringrazio di cuore. Grazie, grazie mille davvero per il suo intervento. Allora, adesso sono particolarmente emozionato perché sto per introdurvi un ospite davvero, davvero speciale. Lui ha cominciato la sua carriera un po' di anni fa, erano gli anni 70, al Corriere dei Ragazzi. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, c'erano i fumetti sopra il Corriere dei Ragazzi. Poi in realtà una carriera davvero incredibile, molto importante, Corriere della Sera, direttore del Corriere della Sera, poi ancora il Sole 24 Ore, ha firmato un libro con Papa Francesco. Ma soprattutto quello che ci interessa di più oggi, qui in questo posto, al Panettone d'Oro 2020, è il grande impegno a livello sociale che lui da sempre ha. E allora, io sono davvero felice di poter introdurvi qua, con noi, a tenere un Alexio Magistralis. Un grande applauso a Ferruccio De Bortoli. Buonasera a tutti, grazie per questa generosa e ridondante presentazione. Ha visto? E non ho esagerato, sono stato sobrio. Grazie, quando esagera me lo dica in anticipo. Sarà fatto, sarà fatto. Così non mi presento. Grazie, io sono veramente felice e onorato di essere qui con voi, questa sera, a condividere con voi questo momento che ci vede tutti insieme, a testimonianza della grandezza del cuore di Milano. Io vi devo dire, da milanese, che continuo a stupirmi di quanto sia profonda la solidarietà, la capacità di aiutare gli altri, di creare valore sociale della nostra città. E devo ammettere, sinceramente, che non sono stato un grande cronista, e qui chiedo scusa al mio collega Gian Giacomo Schiavi, che lo è stato e lo è più di me. Perché nella nostra lunga vita professionale, questo vale per me, Giacomo, non per te, non voglio darti responsabilità. Insomma, io ho fatto il cronista di questa città per tanti anni, ho diretto due volte il Corriere della Sera, penso che abbiamo fatto, con qualche errore, un buon giornalismo, ma forse abbiamo trascurato di raccontare come sarebbe stato necessario il bene profondo di questa città. Certo, i giornalisti, per loro definizione, per il loro compito, devono segnalare le criticità di una società affinché la pubblica opinione ne sia conscia, e la classe dirigente prenda per tempo le decisioni utili per il bene comune. E quindi, per nostra natura, siamo abituati a raccontare più il male del bene. Qualcuno diceva che nel male c'è più romanzo. Lo Stoieschi diceva che ci racconta quanto romanzo ci sia nel male. E a volte mi è stato detto, ma insomma, ma il bene è un po' annoia, perché non suscita entusiasmo, perché a un certo momento dice, sì, sì, beh, bravi, bravi, però andiamo avanti. E allora lì abbiamo sbagliato. Perché il bene è pieno di romanzo, perché il bene è contagioso, perché il bene è qualcosa che a volte riteniamo normale, anche quando siamo convinti che sia indispensabile. E cerchiamo e tentiamo spesso di non collocarlo al centro della nostra società. Forse per una ragione di precauzione, nel senso che è giusto essere un po' pessimisti, è giusto vedere e ingigantire quello che non va in una società e sottovalutare quello che per fortuna va. Allora io anche oggi mi stupisco delle tante iniziative, delle tante persone che fanno del bene a Milano. Non solo a Milano, per carità, perché qui bisogna stare attenti a non essere nell'orgoglio meneghino un po' antipatici agli altri. Ecco, questo bisogna che ce lo diciamo con molta sincerità. E forse qualche eccesso di vanità, anche dal punto di vista della solidarietà umana e sociale, l'abbiamo fatto. Una delle caratteristiche, però, è che sono molte le persone, molte le associazioni, che fanno il proprio mestiere e non hanno una grande necessità di mostrare agli altri che cosa fanno. Si accontentano del risultato che percepiscono nel rapporto con gli altri. Perché il mondo del volontariato è fatto soprattutto di relazioni. E le relazioni sono un modo per tenere vivo un tessuto sociale senza il quale le società deperiscono e declinano definitivamente. Allora io penso che il nostro Paese, non parlo soltanto della nostra città, abbia potuto superare un momento di crisi, non lo ha ancora del tutto superato, purtroppo, un impoverimento che probabilmente equivale a quello che abbiamo avuto dopo un conflitto mondiale, la crescita di disuguaglianze molto forte. Credo che abbia potuto superare questi momenti grazie a degli ammortizzatori privati, grazie ad un capitale sociale, grazie a delle comunità che si sono affiancate allo Stato. e spesso ne hanno sostituito le funzioni. E sarà sempre così, guardate. Sarà sempre così, perché lo Stato, ma anche le istituzioni locali, non saranno dal punto di vista anche dei mezzi a loro disposizione in grado di affrontare le grandi emergenze di una società, per esempio, che invecchia, di una società multietnica. E quindi lo Stato, il Comune, la Regione, le istituzioni avranno sempre più bisogno delle comunità. E quindi noi andremo verso un quadro della nostra vita pubblica che sarà formato dallo Stato, dal mercato e dalle comunità. Con le comunità che saranno ancora più importanti. E le comunità renderanno fattibile quel principio di sussidiarietà che sta alla base della nostra Costituzione e che sta anche alla base dell'Unione Europea alla quale facciamo parte. Allora, qual è il tipo di contributo che noi come milanesi possiamo dare? Intanto, una grande tradizione. Una grande tradizione, secondo la quale, e lo abbiamo fatto, in momenti in cui la città era molto più povera, era molto meno abbiente, a maggior ragione lo dobbiamo fare. Adesso, che è una città che cresce, fortunatamente, è una società che ovviamente deve essere all'altezza della propria tradizione di solidarietà. Di qualsiasi tipo, quella cattolica, quella mutualistica, quella delle cooperative, quella delle tante forme di aggregazione che questa città è riuscita a creare nel corso della propria storia. E sono dei modelli, sono dei modelli che sono stati replicati replicati anche in altre parti, non solo del nostro Paese, ma anche all'estero. Allora, il nostro contributo è quello di segnalare quanto sia importante il terzo settore, proprio come capitale sociale, sul quale si può investire per realizzare una vera riscossa civica. Quando dico riscossa civica, non faccio una affermazione di carattere politico. La riscossa civica è necessaria semplicemente per dare qualità alla cittadinanza. Noi abbiamo bisogno di cittadini consapevoli, attivi e non passivi, indifferenti e rassegnati. Perché se avremo cittadini passivi, indifferenti e rassegnati, la comunità deperirà dal punto di vista della propria qualità intrinsega e il Paese perderà dal punto di vista della propria consistenza democratica. Questo ce lo dobbiamo dire con molta sincerità. Noi abbiamo bisogno di cittadini che si occupino anche degli altri e per fortuna Milano, e questa manifestazione ne è una grande dimostrazione, Milano è una città nella quale non si lascia indietro nessuno. Non si lascia indietro nessuno. E il fatto di essere una città competitiva che ha attenzione al merito, che ha otto università, che ha 270.000 studenti, che ha 30.000 studenti stranieri, che attrae talenti dal resto del mondo, quindi che è competitiva nella sua natura, questo tipo di qualità non è in contrasto con il fatto che non lascia indietro nessuno. Perché la selezione per merito non vuol dire escludere qualcuno. La selezione per merito vuol dire premiare il merito, ma avere attenzione per la dignità e per i diritti di tutti. Io sono assolutamente contrario con una visione competitiva così eccessiva che porta a considerare gli ultimi degli scarti, che perdono fatalmente la loro qualità di cittadini. Hanno gli stessi diritti degli altri cittadini e noi dobbiamo fare in modo da milanesi con il nostro esempio, con il vostro esempio soprattutto, di affermare quella qualità della cittadinanza che è milanese, ma io vorrei dire che è anche italiana. Perché guardate, io proprio per rifarmi degli agori che ho compiuto quando facevo il giornalista attivo e quindi c'è una sorta di contrapasso dantesco che devo scontare da questo punto di vista, ho girato molto il nostro Paese e vi devo dire con molta sincerità che non c'è dal punto di vista della solidarietà civica una differenza così ampia tra nord, centro, sud come lascerebbero pensare le disuguaglianze di reddito. a dimostrazione che quando si ha meno si è paradossalmente più attenti agli altri perché si ha il ricordo molto più forte di antiche povertà che non sono scomparse del tutto ma che potrebbero anche ripresentarsi perché il benessere non è qualcosa che si conquista definitivamente. Così come ma qui andrei su altri terreni così come la libertà e la democrazia non sono degli stati naturali della storia hanno bisogno di una manutenzione continua e la manutenzione continua di questi valori che stanno alla base della nostra Costituzione passa anche attraverso il ruolo del volontariato e del terzo settore. Allora noi lo chiamiamo terzo settore tra l'altro non è neanche una definizione nostra il terzo settore è una definizione francese di Jacques Delors c'è il primo settore c'è il secondo settore poi c'è il terzo settore un po' lo chiamiamo no profit nel senso che non è una definizione nostra ma noi abbiamo dal punto di vista della tradizione solidale a tutti i livelli qualcosa che fa parte della nostra identità della nostra cultura prendete per esempio il microcredito che purtroppo facciamo poco ma il microcredito non ha certo inventato Muhammad Yunus con la Gramming Bank l'ha inventato Bernardino da Siena e con tutte le misericordie che negli ultimi sei secoli si sono sviluppate nel nostro paese dovremmo essere noi orgogliosi dei primati di attività sociale che fanno parte della storia dell'identità del nostro paese e non prendere magari in prestito in maniera un po' disinvolta dei modelli stranieri certo noi forse rispetto ad altri paesi dal punto di vista di quella che si chiama charity siamo forse meno generosi anche perché magari le leggi fiscali sono meno invitanti però guardate io ho constatato che nel nostro paese e in particolare a Milano abbiamo tante persone molte più persone di altri paesi che danno il proprio tempo cioè danno se stessi al di là della generosità monetaria che è necessaria che c'è è abbondante ma ci sono tante persone che danno il proprio tempo a differenza di quello che esiste negli altri paesi quindi sono generosi con se stessi si mettono a disposizione degli altri e particolare che io vorrei sottolineare come una caratteristica meneghina non hanno alcun interesse a farlo sapere agli altri perché ritengono che questo basti ad appagare il loro la loro soddisfazione personale che sta nella relazione con la persona che riceve il loro dono perché il dono è una relazione così come la donazione nel diritto a un contratto nel senso che sia in due e il dono che è semplicemente qualcosa che si dà agli altri magari per lavarsi la coscienza senza preoccuparsi dell'effetto che questo può avere e di entrare in relazione empatica con le persone che ricevono il beneficio che fortunatamente noi siamo in grado di assicurare beh insomma se non c'è questo tipo di relazione il dono finisce per essere perduto perché il dono è soprattutto relazione e allora un paese che ha un capitale sociale così ampio così diffuso così profondo con non tante differenze tra nord e sud guardate io che ha 300.000 associazioni di volontariato che ha 6 milioni di persone che sono coinvolte beh io sono convinto che sia un paese che ha un futuro a patto che questo capitale sociale si trasformi in riscossa civica e sia una dimostrazione di una cittadinanza consapevole attiva e non distratta egoista e assente e allora nel ringraziarvi per la vostra attenzione e soprattutto per congratularmi per lo sforzo quotidiano io penso che dovremmo essere fieri e orgogliosi dei nostri primati milanesi senza eccedere senza eccedere per se non si rischia un minimo di ricaduta antipatica senza eccedere però dobbiamo preoccuparci e qui è un tema di criticità dell'intero settore dobbiamo preoccuparci di fare in modo che le associazioni crescano che si realizzino delle sinergie che ci sia trasparenza anche perché guardate e lo vedo nella nel lavoro quotidiano dell'associazione di cui sono presidente che è Vidas colui che dona qualcosa a un altro a un'associazione deve essere rassicurato che il proprio dono che il proprio sforzo personale che il proprio sacrificio monetario di tempo debba avere il massimo di beneficio per gli altri io posso investire i miei soldi in un'attività e posso mettere in punto di perdere qualcosa ma se io donatore investo il mio tempo il mio denaro in un'attività civica devo essere sicuro del ritorno sociale che questa produrrà allora abbiamo dei traguardi da raggiungere dal punto di vista della dimensione della scalabilità delle tante associazioni che voi rappresentate che noi tutti rappresentiamo di una maggiore trasparenza perché questo circolo virtuoso guardate è l'unica cura per un paese malato grazie grazie mille davvero a Ferruccio De Bortoli grazie di cuore allora ci siamo è arrivato il grande momento quello delle premiazioni ci sono state parecchie candidature devo dire la giuria si è radunata per scegliere quelli che sono i vincitori coloro che questa sera saliranno sul palco e a tal proposito vorrei in rappresentanza della giuria vorrei tributare un applauso a Gian Giacomo Schiavi cioè il presidente della giuria che ha voluto eh no insomma se lo merita se lo merita assolutamente grazie per il lavoro che avete fatto davvero e grazie a voi siamo qua questa sera allora ci siamo ci siamo davvero è arrivato il momento eh di introdurre il il primo vincitore allora io ho in tasca la cosa simpatica che ho in tasca un telecomando perché questa è una cosa divertentissima perché io posso manovrare questo schermo è bellissimo allora intanto eh vorrei chiedere visto che sarà lui a premiare a Franco Beccari di eh venire qua con me qua vicino perché stiamo proprio per ehm chiamare il primo vincitore allora andato in pensione ha voluto dedicare la sua professionalità di medico a chi dal medico di solito non ci va proprio perché la sua fragilità è estrema è considerato il padre di tutti i medici di strada di quei volontari che tutti i giorni si mettono a disposizione degli invisibili per portare loro gratuitamente cure mediche farmaci ma soprattutto quello che più ci importa la loro umanità panettone d'oro 2020 a Faustino Boioli eccolo qua che arriva buonasera Arianna Censi voleva voleva salutarla ci teneva a salutarla allora buonasera tutto bene grazie grazie per l'invito grazie per il riconoscimento che va a tutta la banda nostra ebbè certo con un'età media diciamo così i medici attualmente negli ospedali sono molto sfruttati come sapete oltre che picchiati ma diventa poi duro dare molto tempo in attività ancora sanitarie e quindi siamo un po' sono i pensionati che accennano io sono partito prima però a contesto non ero ancora pensionato ah addirittura ok e abbiamo messo in piedi questa organizzazione che credo rispetti le regole in maniera severa che sono state un po' accennate da De Bortoli sui comportamenti e sulle componenti chiamiamole economiche dell'associazione ringrazio veramente di questa possibilità che ci avete stato noi abbiamo scelto per tornare a alcune cose che diceva De Bortoli di andare a lavorare in via Padova nel momento in cui c'era un'attenzione anche della stampa molto come dire severa di questa realtà e siamo rimasti anche un po' delusi perché poi come succede sì c'era e ci sono ancora dei problemi ma non erano quel rebeloto che appariva che uno si andava sulla 56 scendeva in mutande perché era stato depredato e da questo punto di vista però ci siamo messi a lavorare noi facciamo una medicina a soglia zero chiunque bus è accolto e nel limite delle nostre possibilità lo assistiamo avendo cura a cercare di infilare nel sistema sanitario tutti quelli che sono magari usciti si sono autoespulsi per incapacità perché la burocrazia è difficile e dei nostri sistemi sociali e per esempio finalmente la regione Lombardia ha permesso di dare una diciamo assistenza sanitaria normale a tutti i bambini ai ragazzi inferiori di 18 anni le famiglie non erano in grado non sapevano neanche cosa dovevano fare per avere questo beneficio molto consistente perché equipara al 100% il bambino che vive magari in una topaia di migranti clandestini ai bambini che vivono in una realtà molto migliore e questo aspetto noi ci teniamo non facciamo un ghetto magari per carità positivo cerchiamo di canalizzarli nella realtà e nella quotidianità di tutti noi fate un lavoro straordinario davvero a questo punto mi saluti il resto della banda sono qua un po' sono qua allora saluto anche io la banda grazie mille fermatevi un attimino al centro che vengono fatte le foto le foto di rito naturalmente ci vogliono in questo caso il secondo Beccari viene anche Barchini a coppare il dettolo di Colosio allora proseguiamo con la premiazione adesso chiedo a Franco Beccari di rimanere qua vicino me perché continuiamo in modo discreto è sempre pronto nel centro anziani e nell'oratorio a mettere a posto impianti e attrezzature varie utilizza il criterio delle vecchie botteghe artigianali dove non si butta via niente e insegna a realizzare nuovi manufatti e a riportarne altri a nuova vita pensate che bello evitando di comprare materiale nuovo sensibilizza grandi e piccini del quartiere Comasina al riciclo e al recupero dell'esistente panettone d'oro 2020 ad Angelo Barchini lo accompagna Angelo Garofalo presidente del comitato di quartiere eccoli qua che stanno arrivando buonasera facciamo ancora un applauso buonasera 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 ecco qua la consegna del premio allora intanto voglio sapere qual è la reazione della cittadinanza di fronte al vostro impegno penso che sia una cosa valida per tutti insomma io presto la mia opera nel mio quartiere e cerco di fare il meglio che posso per il mio tempo libero io sono un pensionato do il mio tempo libero a favore sia delle persone anziane che dei giovani dei ragazzini che frequentano la scuola è il meglio che posso fare mi piace perché lo dice così come se fosse scontato ma in realtà purtroppo non lo è per molti purtroppo non lo è qual è l'importanza di iniziative come questa per un quartiere come quello? allora io sono salito con l'angelo perché lui è uno di quelli come diceva il dottore Ferruccio De Bortoli che non vuol far sapere quello che fa e quindi effettivamente è una persona che fa tanto abbiamo fatto sinceramente appunto il fatto che è un po' invisibile fra virgolette fatica a decidere e ad identificarlo e quindi a candidarlo e infatti abbiamo anche fatto fatica a convincerlo a venire a ritirare il riconoscimento perché come come vedete è molto emozionato grazie Angelo a nome del quartiere il panettone d'oro serve anche a questo davvero grazie mille complimenti grazie grazie mille grazie grazie mille foto rimanete sempre al centro voi io non vi voglio cacciare ci mancherebbe anzi rimanete al centro per la fotografia adesso intanto io prendo il mio telecomando e chiedo all'assessore Rabaiotti a Giuseppe Failla di accomodarsi qua vicino al Leggio perché proseguiamo con le premiazioni in un quartiere densamente abitato di Milano è riuscito a realizzare un polmone di verde ma non soltanto anche di sport e aggregazione uno spazio a disposizione dei cittadini dove l'accento è posto in modo particolare sul coinvolgimento delle persone più fragili qui fa vivere una comunità accogliente inclusiva aperta e dialogante attraverso progetti sociali corsi e attività panettone d'oro 2020 a Luigi De Micco buonasera Luigi eccolo che raggiunge il palcoscenico buonasera complimenti davvero ecco qua la premiazione ufficiale dunque intanto le voglio chiedere qual è oggi il suo sogno tanto avete fatto ma ci sono ancora dei sogni che vuole realizzare diamoci del tu diamoci del tu qual è il tuo sogno allora io ho avuto un primo sogno sei anni fa quando abbiamo aperto Playmore che è un centro sportivo che abbiamo voluto che diventasse la casa dello sport per tutti è un sogno che non ho fatto da solo quindi io sono un po' in imbarazzo a ricevere un premio individuale perché questo in realtà è un premio di squadra e la squadra è qua presente e il nostro applauso va a loro soprattutto e quindi dicevo il sogno che abbiamo fatto insieme sei anni fa era di creare la casa dello sport per tutti condivido questo premio non solo con loro ma con tutti i migranti rifugiati richiedenti asilo che vengono a giocare con noi al sabato mattina a calcio e a basket e sono loro i primi a insegnarci il dono della gentilezza sono persone veramente molto educate sono loro che ci insegnano ad essere educati a tutte le persone con e senza disabilità che vengono a fare sport nel nostro centro sportivo e ci dimostrano passo dopo passo correndo giocando a calcio facendo judo che lo sport è magico e ci fa stare bene fisicamente di testa ma soprattutto allena la cosa più importante che abbiamo cioè il nostro cuore e per venire alla tua domanda il mio sogno è che si possano creare più centri sportivi come questi e esportare i progetti che tanto stanno dando a noi in prima persona e poi a tutti i beneficiari di questi progetti anche nel resto d'Italia e chissà anche in qualche altra città del mondo sarebbe davvero bellissimo te lo auguro e lo auguro a tutti i ragazzi grazie mille di cuore e complimenti grazie ovviamente al centro per la foto di Rito ok sono posizionati bene perfetto allora 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 adesso io chiedo a Giuseppe Failla di rimanere qua eh no non scappare non scappare perché proseguiamo con le premiazioni ecco qua che bello mi diverto un sacco allora è il prototipo del volontario ideale è generoso altruista frizzante ottimista gioviale estroverso e sorridente è sempre pronto ad aiutare senza chiedere nulla in cambio punto di riferimento per tante realtà associative che sanno di trovare in lui un amico disinteressato è sempre presente nei momenti importanti panettone d'oro 2020 a Mario Donadio eccolo qua riceve ovviamente il premio complimenti buonasera prego prego prenda pure il premio allora io so che lei è una persona frizzante estroversa qual è stato ovviamente è un impegno importante ma c'è stato un momento che lei ricorda particolarmente divertente nel corso di questi anni allora innanzitutto ringrazio tutti perché sono onorato di essere presente in questa platea perché dopo 20 anni sono riuscito a mettere la cravatta ah ecco la cravatta merita l'applauso poi allora il il momento mi dicevi più divertente i momenti più divertenti ce ne sono veramente tanti perché quando si fa si scopre questo tipo di attività che ho condotto negli ultimi anni nel relazionarmi con le associazioni come i miei amici mi chiamano un motorino civico perché la mia la mia passione è andare a scoprire le varie realtà che ci sono sul territorio non puoi non divertirti perché veramente il bello come diceva prima Bortoli lo scopri andando in giro oggi veramente io invito tutti ad andare a riprendere le relazioni umane sul territorio questa è una scoperta che veramente ti dà attivismo ti dà entusiasmo torni a casa veramente carico di energie ed è un grande insegnamento anche per me che insomma dopo una certa età l'ho riscoperto sono d'accordissimo assolutamente grazie mille davvero e complimenti rimanete al centro per la foto così adesso finito il rituale delle fotografie possiamo proseguire con le premiazioni adesso ovviamente Giuseppe Feila si è accomodato chiamo qua vicino a Leggio Achille Colombo Clerici eccolo qua venga venga pure perché facciamo un applauso perché è il momento di premiare compassione e impegno supporta volontariamente le famiglie cinesi che necessitano di mediazione con le istituzioni italiane principalmente quelle scolastiche fortemente convinta che l'integrazione fra cittadini cinesi e italiani passi attraverso le giovani generazioni dedica il suo tempo alla formazione scolastica dei giovani cinesi all'interno delle scuole italiane panettone d'oro 2020 a Hu Xia Hi Cinzia buonasera prego complimenti davvero emozionata molto emozionata innanzitutto questo riconoscimento e soprattutto per lo staff è il corpo docente della nostra scuola cinese è la prima scuola cinese attiva da oltre vent'anni a Milano all'inizio principalmente ovviamente i studenti erano bambini di origine cinese man mano adesso nel tempo abbiamo nella nostra scuola anche tanti bambini italiani quindi ci sentiamo appunto quindi ringraziamo il premio alla giuria gli operatori che hanno contribuito a farvi vincere il premio emozionati le facciamo un applauso scusi le do un attimo le spalle che è davvero emozionata e soprattutto cioè sì è un riconoscimento e soprattutto è un vabbè ma è lo stesso è lo stesso noi apprezziamo il nostro lavoro futuro a perseverare il nostro lavoro è davvero importante questo questo premio ha anche quel tipo di significato grazie mille davvero grazie di cuore e complimenti rimanete qui al centro per le foto di rito è bello perché ci sono anche queste emozioni anche perché qua sul palco poi si vede riconosciuto davvero un lavoro che dura da anni che è molto spesso molto duro molto complesso certo vorrei chiedere un applauso alla comunità cinese e agli italiani in questo momento molto difficile è vero è un periodo periodo anomalo devo dire ma sicuramente il lavoro anche di Cinzia di tutte le persone che sono con lei contribuiscono a renderlo meno anomalo proseguiamo chiamo qua vicino a me l'assessore l'assessore no anzi chiamo vicino a me Achille Colombo Clerici Arianna Censi ecco qua io non la chiamo più presidente non la chiamo più presidente vice sindaco vice sindaco ma sì vabbè tanto presidente è un complimento presidente è un complimento ormai i presidenti esatto siamo tutti allora è il momento di Armando Leone andato in pensione da decenni si è messo a disposizione dell'intera comunità di Buccinasco e dell'amministrazione anche come nonno vigile volontario per la salvaguardia del territorio e la sorveglianza di alcune strutture comunali esempio per diverse generazioni di comportamento etico determinato e generoso l'ho già detto Armando Leone riceve il panettone d'oro 2020 sale anche sul palcoscenico l'assessore di Buccinasco Grazia Campese che sta accompagnando proprio Armando Leone facciamo ancora un applauso stanno arrivando dal fondo del teatro un applauso all'assessore ad Armando Leone che stanno arrivando proprio per ricevere il premio eccoli qua che eleganza mamma mia attenzione alle scale che certe volte sono pericolose buonasera assessore buonasera benvenuta buonasera buonasera complimenti per l'eleganza la ringrazio mamma mia è una sera è un pomeriggio importante e quindi ho pensato a divestirmi così ebbè è giusto giusto il pubblico sottolinea l'eleganza con un applauso grazie ma se lo sarebbe mai aspettato lei un giorno lei cosa ha fatto nella vita prima quando lavorava e non era in pensione cosa faceva ceramista ah ceramista si sarebbe mai aspettato quando faceva ceramista di diventare un giorno un nonno vigile di sentirsi chiamare così assolutamente no è successo qui come ci si sente ma benissimo direi che ho conosciuto tutto Bucinasco per esempio e molti altri altri agenti comunque l'importante è essere insieme e vivere una giornata tranquilla collaborando con chi ha bisogno Assessore avere venga pure avere una presenza come questo signore nel comune cosa significa? è una grandezza enorme è una grandezza enorme perché prima di tutto lui anche lui è uno di quelli che non amava la visibilità tant'è che il presidente del Proloco gli ha organizzato una festa per i suoi 88 anni 88 anni io ci metterei la firma adesso immediatamente gliel'ha organizzata a sorpresa dicendo che doveva venire a sistemare delle cose nell'auditorium e lui era lì che continuava fino all'ultimo era così preso che non capiva che c'era questa grande festa per lui io sono convinta che se lui si candidasse a sindaco a 88 anni vincerebbe le elezioni quindi è una meraviglia ma lui è già sindaco così è già sindaco così lei è già sindaco così possiamo dirlo è troppo onore è troppo onore ma ci mancherebbe se lo merita tutto davvero grazie mille complimenti di cuore grazie e auguri fate la foto rimanete pure al centro fate pure la foto eccola qua la foto di rito questo gruppo molto bello con il nostro nonno vigile nonno Armando grazie mille ancora e grazie ovviamente anche all'assessore di Buccinasco grazie a Campese grazie di cuore facciamolo pure l'applauso se lo merita e adesso proseguiamo io chiamo qua vicino a me Carlo Montalbetti eccolo qua era già qua ci rivediamo allora è arrivato il momento di premiare compassione dedizione e generosità da anni documenta la vita della comunità di Corbetta mette a disposizione attrezzature personali e capacità affinate in tanti anni di lavoro in Rai ma soprattutto il suo tempo e il suo sguardo regala poi tutto il materiale video al comune contribuendo a costruire un prezioso e ricchissimo archivio panettone d'oro 2020 a Giuseppe Magistrelli viene anche il sindaco eccolo qua buonasera 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 sindaco buonasera complimenti buonasera c'è anche il vice sindaco giustamente insomma l'amministrazione vuole sono venuto accompagnato si è fatto accompagnare è giusto così allora intanto io credo ho fatto anch'io un po' di lavori con telecamere varie ho documentato un po' credo che documentare in questo modo con dei video significhi costruire anche la memoria delle generazioni future è importante no? si io ritengo di essere un archivio comunque di com'era e come sarà il domani sia importante poi non so che uso ne faranno questo non dobbiamo chiederlo a loro beh vado subito a chiederlo a questo punto che uso ne farete? ecco intanto rimane un archivio per il futuro per vedere tutte le iniziative che facciamo in comune a Corbetta e a ogni cittadino si vedono nelle varie manifestazioni ma poi c'è qui il vice sindaco che è anche assessore dei servizi sociali perché oltre a questo Giuseppe è un volontario importante per la comunità con la Croce Azzura con i volontari per le terme quindi è un esempio delle persone che andate in pensione si mettono a disposizione della comunità senza le quali la nostra città non sarebbe quella che è quindi non sarebbe una città vivibile una città aperta una città accogliente per tutti i cittadini perché senza il volontariato non si potrebbe fare tutte le cose che facciamo oggi è vero sono assolutamente d'accordo vice sindaco e assessore io credo che il ruolo di questo signore sia importante anche per le nuove generazioni da esempio assolutamente sì è molto riconosciuto e una cosa importante oltre a tutte quelle che ha detto il sindaco è un grande supporter della nostra nuova squadra di Baskin che è una squadra per ragazzi normodotati e disabili e lui è un grande supporter nel senso che si presta sia a giocare in alcuni momenti ma anche a sostenerli attraverso il suo lavoro di testimone attraverso la camera ma anche proprio davvero si spende fisicamente per aiutarli insomma questo è molto molto bello che bello davvero quando nelle comunità ci sono persone come lui facciamogli ancora un applauso e complimenti grazie al sindaco grazie mille grazie assessore rimanete al centro per la foto ovviamente come è sì sì prego rimanga pure al centro per l'immagine così almeno scattiamo tutte le foto rimarranno nell'archivio esatto le metteranno nell'archivio insieme a tutti gli altri video allora proseguiamo Carlo Montalbetti di nuovo vicino a me eccolo qua non si è allontanato in meno di due anni dalla costituzione del gruppo informale Social Street quartiere Grattosoglio Basmetto ed Intorni ha organizzato numerose iniziative aggregative di varia natura creando rete e sinergia tra le varie realtà formali e informali del territorio è un punto di riferimento del quartiere a cui dedica volontariamente il suo tempo libero panettone 2020 ad Antonella Musella eccola qua buonasera Antonella buonasera buonasera benvenuta prego consegniamo consegniamo pure allora in un'epoca dove ci sono i social network però ma dove non ci si incontra finalmente ci si incontra certo come Social Street ci è venuta l'idea proprio di portare la gente dal virtuale al reale quindi sulla strada e farla percepire in una realtà diversa quindi riconoscere il quartiere come cerca con l'amore proprio del territorio della cura non vederlo con gli occhi di una periferia come era un tempo diciamo così come era un tempo grazie mille davvero e complimenti per il vostro lavoro certo e ringraziamenti certo non solo a tutti ma il merito è per tutto il territorio e tutte le realtà perché il premio non è mio ma è di tutto il quartiere e di tutte le realtà che ci sono superato soglio grazie grazie mille vi lascio al centro del palco per la foto intanto io chiamo qua vicino a me Marcello Milani da moltissimi anni si è data una missione prendersi cura di piazza del governo provvisorio e delle vie limitrofe perché come spesso ripete la cosa comune è un bene importante è di tutti quindi bisogna averne cura e rispetto raccoglie rifiuti abbandonati e si occupa del verde e dei fiori il tutto discretamente per migliorare l'ambiente in cui tutti noi viviamo panettone d'oro 2020 a Piera Perego eccola qua buonasera buonasera e complimenti benvenuta allora intanto vedo che ha un tifo facciamoci sentire ancora di più vedo che ha un tifo clamoroso qua c'è un fan club forse io non l'ho sentita sono un po' sorda no l'ho sentito io le assicuro che veramente c'è un tifo clamoroso dunque è un impegno importante il suo anche il suo in un'epoca cosa ne pensi insomma di questa ondata di consapevolezza sulla tutela dell'ambiente c'è Greta Thunberg no? beh mi può soltanto far piacere naturalmente però penso che al di là delle manifestazioni bisogna poi fare nel piccolo perché sono convinta che se ognuno facesse la sua parte il mondo sarebbe migliore poi vabbè rispetto a Milano qualcuno mi dice ma perché lo fai? io lo faccio perché amo Milano perché Milano mi ha dato tanto e io voglio restituire quello che mi ha dato Milano poi un'altra cosa che che ci tengo a dire non sono sola in questa cosa che sto portando avanti dietro di me c'è un'associazione che mi garantisce la continuità di questo lavoro e la fattispecie è l'associazione accogliersi che è neonata però promettiamo di andare avanti di andare avanti giustamente voi siete qua in rappresentanza sempre diciamo possiamo dire così di tanti altri che insieme a voi lavorano e si danno da fare facciamo ancora un applauso grazie mille rimanete al centro per le foto e proseguiamo e adesso Marcello Milani rimanga pure qua vicino me da molti anni dedica il suo tempo libero alla pulizia di varie aree pubbliche nel territorio milanese sia in autonomia sia con gruppi organizzati di volontari è sempre disponibile a incontrare nelle scuole studenti di ogni età per trasmettere consapevolezza sul rispetto dell'ambiente e l'importanza di una costante e corretta raccolta differenziata dai rifiuti panettone d'oro 2020 a Simone Riva buonasera 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 mi metto di qua buonasera benvenuto buonasera e complimenti ma io ho saputo che lei non rinuncia a questa passione chiamiamola così nemmeno quando è in villeggiatura io sono purtroppo allora innanzitutto grazie a tutti di essere qui di cuore veramente e sono purtroppo conosciuto come il turista Spazzino e da 43 anni pulisco l'ambiente c'è di peggio ci sono dei turisti insomma Spazzino mi sembra un'ottima cosa perché tenere pulito è importante un nome che è stato dato da un giornalista del resto del Carlino Ermanno Pasolini e poi sono qui perché io il pandoro non l'ho mai digerito allora volevo mangiare il panettone e niente no il mondo è anche mio io voglio il mondo pulito noi abbiamo bisogno della terra non è la terra che ha bisogno di noi e sono anche molto contento di di essere andato nelle scuole anche stamattina a Cassina De Pecchi per sensibilizzare sull'ambiente ecco in questo mio caso mi piacerebbe dire perché quando vado a pulire lo faccio in silenzio però sono anche costretto a gridarlo in modo che gli altri prendano coscienza e si sensibilizzano ecco è importante è importante la comunicazione è sempre importante anche in questi casi devo dedicare questo premio perché sempre a tutti i bambini del mondo perché solo loro possono costruire delle case che non crolleranno mai ecco questo voglio dire grazie mille e complimenti davvero rimanete no rimanga al centro rimanga qua al centro che c'è la foto di Rito rimanete al centro si è messa addirittura in posa no scusatemi mi rifà la posa qual era la posa questa era la posa beh ci sta ci sta va bene lo invidio anche io non potrei mai fare una cosa del genere va bene grazie mille si accomodi pure allora proseguiamo con le premiazioni come vi avevo detto all'inizio non premiamo soltanto dei cittadini ma anche delle associazioni allora io chiedo a Mario Furlan di raggiungermi qua vicino perché è arrivato il momento di premiare la prima associazione buonasera Mario cittadini motivati a fare bene per stare bene si impegnano a mantenere puliti i navigli e a farli vivere bene organizzando eventi sportivi culturali e aggregativi le attività si svolgono con sottofondo musicale e favoriscono la collaborazione di molti volontari in due anni hanno raccolto pensate ed è veramente un dato scandaloso dal fondo dei navigli più di 500 biciclette oltre a molti carrelli di supermarket e altri oggetti sono un esempio di vero civismo intelligente menzione speciale all'angeli dei navigli eccoli qua che arrivano per farsi premiare buonasera prego ricevete pure la vostra menzione speciale rimanete pure al centro per la foto di Rito per i nostri fotografi eccoli qua davvero un impegno importante quello degli angeli dei navigli in un luogo tra l'altro bellissimo di Milano che vale la pena tutelare grazie mille davvero a tutti voi grazie per il vostro impegno accomodatevi pure accomodatevi pure grazie mille proseguiamo Mario Furlano rimane qua vicino a me dalla disperazione per la perdita del giovane figlio nasce nel 2008 l'impegno di Anna e Giuseppe Marovelli a sostenere opere di beneficenza e solidarietà l'associazione persegue i suoi scopi organizzando eventi sportivi e culturali acquistando defibrillatori contribuendo all'acquisto di un pulmino per trasportare anziani e disabili e partecipando a progetti di altre associazioni menzione speciale all'associazione Claudio Marovelli Onlus e salgono sul palco proprio i signori Anna e Giuseppe Marovelli che ritirano dalle mani di Mario Furlan il premio la menzione speciale mettetevi pure al centro per la foto di Rito ci fermiamo un attimo perché c'è il vice sindaco di Garbagnate milanese Giovanni Bucci vice sindaco il vice sindaco Giovanni Bucci dovrebbe eccolo qua è arrivato è arrivato buonasera buonasera vice sindaco certo certo aspetti che mi metto di qua scusatemi io chiedo la parola in segno veramente di riconoscenza perché sono arrivato immigrato a Milano a 12 anni quindi sono un immigrato dal 59 mi considero milanese di adozione e devo ringraziare Milano per avermi dato il mio futuro da ragazzo di 12 anni con la quinta elementare per poi lavorare e laurearsi a 30 anni con 19 anni di lavoro questo me l'ha dato Milano e non so come ringraziare i milanesi non quelli boriosi come è stato accennato ma tutti quelli veramente col cuore in mano che è un grande esempio che non potrò mai dimenticare come assessore ai servizi sociali qui presente di rappresento e mi sento veramente emozionato perché non è stato preparato niente se non essere chiamato quindi non so come ringraziarvi perché siete un grande esempio della nostra città grazie grazie a tutti voi davvero e complimenti vi lascio al centro per le foto e adesso chiamo qua vicino a me Salvatore Crapanzano per la prossima premiazione pensate che loro recuperano eccolo qua recuperano vecchi computer e dispositivi informatici donati dai cittadini li rigenerano e li consegnano poi gratuitamente alle organizzazioni no profit della città metropolitana di Milano e a cittadini bisognosi con due buoni risultati evitare che ciò che non serve più a qualcuno finisca nella spazzatura e permettere l'accesso al mondo dell'informatica anche a chi non potrebbe permetterselo menzione speciale all'associazione di promozione sociale PC Officina l'assessore Rabaiotti premia insieme a Salvatore Crapanzano l'associazione di promozione sociale PC Officina mettetevi pure al centro per la foto di rito un progetto davvero importante interessante moderno di grande significato davvero con due risultati che vi ho detto prima davvero importanti grazie mille davvero grazie a tutti voi e complimenti adesso è arrivato il momento si vuole dire qualcosa ok una cosa una cosa veloce è una grande soddisfazione quando riusciamo a rigenerare un computer di una persona che ne aveva bisogno e che non riusciva a utilizzarlo perché era diventato inutilizzabile per via dell'aggiornamento dei sistemi proprietari noi installando software libero riusciamo a ridare vita a questo computer e a ridare a questa persona che magari non aveva disponibilità economiche la possibilità di poterlo utilizzare di nuovo per tutte le sue attività che ormai sono diventate indispensabili il computer è indispensabile per la vita quotidiana di tutti noi grazie grazie mille complimenti e adesso è arrivato il momento di chiamare qua vicino a me nuovamente Salvatore Crapanzano perché dobbiamo premiare tra l'altro ecco qua allora intanto chiedo se c'è qualcuno qua in platea del comune di Abbiategrasso non c'è nessuno qua con noi? no recuperiamo l'assessore va bene l'assessore è sempre disponibile allora ha promosso col comune di Abbiategrasso il portico della solidarietà un supermercato solidale che da tre anni consente a molte famiglie in difficoltà di rifornirsi dei generi di prima necessità grazie a una tessera punti decisa dai servizi sociali del comune secondo il bisogno del nucleo familiare collabora con Banco Alimentare Lombardia e Comunità Pastorale San Carlo e con gli esercizi commerciali e i cittadini che aderiscono al progetto regala una spesa a una famiglia menzione speciale all'associazione di volontariato Andrea Aziani Onlus buonasera a tutti buonasera buonasera prego chi è che è il portavoce la signora buonasera ecco qua il premio vuole fare un saluto no niente ringrazio tutti ha fatto tre passi indietro ringrazio tutti per questo premio non solo io ma tutta l'associazione perché comunque è un gran lavoro quello che facciamo sono d'accordo con voi c'è qualcuno meno timido che vuole dire qualcosa una cosa che è già sottolineata come ha detto prima il dottor De Bortoli questa associazione è nata declinando il principio di sussidiarietà quindi è nata in collaborazione con il comune di Abbiate Grasso che di fatto è il nostro partner da ultimo dico solo che per far rilevare il bisogno che c'è noi sosteniamo circa 800 persone quindi in una realtà come Abbiate Grasso che ha 31 o 32 mila abitanti quindi questo vuol dire che la povertà purtroppo avanza e niente dobbiamo fare qualcosa mi appello quindi anche alle varie amministrazioni al riguardo grazie mille davvero l'appello è importante prego foto foto facciamo le foto grazie mille davvero ancora un applauso ai rappresentanti di questa associazione dunque io chiamo qua vicino a me adesso Gian Giacomo Schiavi eccolo qua buonasera dunque io prima di proseguire con le premiazioni le cederei un attimo a leggio se vuole dire due parole in quanto presidente della giuria prego bene velocemente anche perché è più importante che salgano sul palco loro che sono veramente i protagonisti della giornata io dico soltanto che ho un incoraggiamento a continuare a raccontare le positività proprio perché da voi arrivano degli esempi che a volte sono commoventi a volte sono entusiasmanti ma sono comunque le lezioni che ogni giornalista dovrebbe ricevere ogni giorno ogni giorno noi dovremmo fare un'iniezione del vostro coraggio e proprio della vostra capacità di rendervi utili per gli altri ha già detto tutto il mio direttore io lo chiamo sempre così perché lui ha anticipato esattamente quello che sta avvenendo adesso l'ha anticipato aprendo le porte anche alle notizie positive noi dobbiamo cominciare dovevamo cominciare prima a raccontarle anche perché questa questa giornata è l'esempio di come le risorse e le energie che ci sono dentro una realtà come quella di Milano sono straordinarie per cui non devo aggiungere nient'altro continuiamo con la premiazione perché siete importanti voi grazie per quello che fate allora rimanga pure qua vicino a me perché appunto proseguiamo con la premiazione io devo come sempre ecco qua schiacciare il mio telecomando allora radicata sul territorio del municipio 2 pur con scarse risorse si fa carico dei casi umani più disperati cerca di dare risposta all'emergenza abitativa sostiene la ricerca di un lavoro e avvia all'inserimento sociale singoli e soprattutto famiglie incontrati o segnalati dalle istituzioni con le quali collabora gratuitamente da oltre 20 anni fa parte della rete a casa lontani da casa che promuove una rete di alloggi solidali mi stanno precedendo aiuto disponibile ad accogliere temporaneamente famiglie in difficoltà il premio va dall'associazione il giardino delle idee buonasera buonasera e complimenti buonasera sì sì certo prego sono di qua sono di qua buonasera a tutti grazie infinite per questa bellissima circostanza e siamo molto commossi davvero grazie è un onore grandissimo io vorrei poter condividere questo grande dono questo premio con un'amica un'amica in comune che io ho qui davanti a me e la professoressa Roberto Sculati alla quale debbo almeno la metà di questo premio quindi grazie di cuore grazie mille grazie a voi per tutto il lavoro che fate davvero e complimenti rimanete pure al centro per le foto di Rito guardate l'obiettivo mi raccomando ok adesso intanto proseguiamo Gian Giacomo Schiavi appena si libera qua vicino al Leggio nata nel 2016 su iniziativa di 13 manager offre senza ricevere compensi tempo qualità umane e competenze professionali consolidate a molte associazioni che lavorano nel sociale per tutelare i diritti dei più deboli per lottare contro la povertà per l'integrazione e per lo sviluppo della cooperazione i suoi valori sono integrità trasparenza solidarietà premio speciale dell'associazione manager no profit sul palco il presidente e il vice presidente buonasera e complimenti buonasera e complimenti arrivo di qua arrivo di qua chi ha voglia di fare un saluto dunque sono tedesca di origine sono milanese perché vivo qui da più di 40 anni i miei due figli sono nati qui a Milano ho trovato a Milano e capito una solidarietà di azioni nascosto silenzioso ma molto molto concreto e da qui nasce anche la sensazione di Milano che si ha perché qui a Milano c'è una gran voglia di aiutare gli altri e non a caso manager no profit è nato qui a Milano e posso dire che Milano è il posto giusto per chi come noi di manager no profit ha voglia di far crescere le efficienze delle associazioni e chi ha voglia di investire la professionalità la competenza l'energia e il tempo per migliorare la vita delle famiglie delle persone e dei bambini grazie Milano grazie mille panettone d'oro grazie grazie mille rimanete al centro per la foto di Rito panettone d'oro che insomma aiuta davvero a non tenere a non far rimanere così silenziose delle realtà così invece importanti davvero per la città proseguiamo chiedo a Iole Garutti di raggiungermi qua vicino associazione di volontariato a carattere nazionale caratterizzata dal motto chi dona la vita per gli altri resta per sempre è ispirata a principi di solidarietà trasparenza e democrazia tra gli obiettivi quello di onorare la memoria dei caduti anche con progetti educativi per diffondere fra i giovani la cultura della legalità il premio va all'associazione vittime del dovere Onlus Milano eccoli sul palco buonasera buonasera e benvenuti buonasera un ringraziamento sentito alla giuria e a tutti coloro che hanno sostenuto la nostra candidatura l'attività dell'associazione si orienta per soprattutto commemorare il sacrificio dei nostri familiari qui accanto a me ho la vedova di Pietro che rappresenta la condizione dei nostri oltre 500 associati noi abbiamo oltre 500 famiglie di appartenenti alle forze dell'ordine forze armate caduti o rimasti invalidi nell'espletamento del proprio servizio c'è anche mi accompagna anche il generale Paolo Rotta Gelpi ferito gravemente durante un conflitto a fuoco con la criminalità e io sono la figlia di un maresciallo dei carabinieri ucciso in servizio dunque vedove orfani e invalidi che si battono per portare avanti quelli che sono anche i principi di legalità che hanno ispirato i nostri cari la nostra associazione è caratterizzata dal lavoro intenso di promozione della legalità soprattutto nelle scuole ogni anno incontriamo più di 4.000 ragazzi nella sola regione Lombardia insieme alla collaborazione di forze dell'ordine e forze armate portando a riflettere i ragazzi su tematiche importanti quali il cyberbullismo il contrasto all'utilizzo di alcol e droga l'educazione alla legalità economica quindi temi importanti affinché i nostri giovani possano riflettere su queste problematiche che sono vere piaghe sociali e il nostro impegno di prevenzione in cui crediamo è affiancato da straordinari professionisti che danno voce alle nostre istanze io anche a loro voglio rivolgere il nostro ringraziamento perché sono la base portante della nostra associazione grazie di cuore un ultimo pensiero lo voglio rivolgere ai nostri caduti noi oggi celebriamo la virtù civica io penso che i nostri familiari hanno interpretato al meglio quello che è il sacrificio per il bene per la sicurezza degli altri donando la propria vita grazie grazie mille rimanete al centro per le foto nel frattempo inizio a leggervi il racconto del centro che premieremo centro ricreativo che premieremo tra poco vivace centro di aggregazione con oltre 200 soci è un sicuro riferimento per il quartiere certosa io le venga pure qua vicino a me i laboratori le visite culturali i cineforum gli incontri con autori di libri le feste e i corsi che organizza tra cui quello sul dialetto milanese che bella anche questa cosa di mantenere davvero l'attenzione sulla tradizione sui dialetti sono la dimostrazione della ricchezza culturale umana che si crea attraverso la socializzazione delle comunità premio speciale al centro ricreativo culturale al 77 anche qua c'è un tifo da fan club adesso cambiamo subito cambiamo la schermata certamente grazie per la segnalazione eccola qua buonasera buonasera e benvenuti buonasera consegniamo pure il premio ecco qua ci tenevo ringraziare tutta la giuria il coordinamento comitati milanesi il comitato cittadini certosa garegnano e dedico questo premio a tutti i collaboratori ai volontari a tutti i nostri soci agli amici alle amiche che collaborano sempre con noi col 77 senza di loro non saremmo qui a ritirare questo premio grazie grazie mille davvero bello bello conosciamo questo tifo così caloroso adesso proseguiamo chiamo qua vicino a me Giulia Colombo Clerici Simontacchi eccola qua Giulia buonasera ha sede nel carcere di opera e sviluppa progetti come nel laboratorio di liuteria che sostengono la dignità delle persone più svantaggiate il progetto il senso del pane si è specializzato nella produzione di ostie estendendosi in territori di povertà dove vengono lavorate da detenuti in fase di reinserimento o da ragazze sfuggite alla prostituzione le ostie le ostie vengono poi donate alle chiese che le richiedono il prossimo premio va alla fondazione casa dello spirito delle arti Onlus salgono sul palco i rappresentanti dell'associazione eccoli qua buonasera facciamo pure la consegna del premio buonasera 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 benvenuti chi vuole fare un saluto ringrazio di questo premio che vogliamo tutti noi dell'associazione condividere soprattutto con i detenuti di opera che purtroppo non sono potuti venire non hanno avuto il permesso e è un premio che fa particolarmente piacere per un'attività che è stata benedetta da Papa Francesco e che si sta anche divulgando molto sia in Italia perché non è solo Milano adesso ma anche a Pompei e all'estero anche in collaborazione con l'associazione Francesco Real Monte si sta realizzando in Sri Lanka in Muzambico e in Argentina e in Spagna una grandissima espansione quindi è bellissimo sarete orgogliosi molto grazie di tutto grazie grazie mille davvero grazie a tutti voi rimanete pure al centro per la foto io nel frattempo comincio a raccontarvi che ha ideato stampato e distribuito gratuitamente ciò che non c'era Blue Diary un'agenda visiva per persone con autismo e disabilità intellettiva basata su immagini e simboli in questo modo anche queste persone che hanno assoluta necessità Giulia vieni pure qua vicino a me in questo modo dicevo anche queste persone che hanno assoluta necessità di comprendere e susseguirsi degli eventi nella giornata ma che pensano per immagini hanno a disposizione un importante strumento educativo il premio va a Gaudio Onlus e sale sul palco anche l'assessore alle politiche sociali del comune di Mediglia Elisa Roberta Baeli buonasera consegniamo pure il premio buonasera e innanzitutto slide slide scusatemi ogni tanto mi dimentico che ho un telecomando in tasca avete ragione scusatemi prego innanzitutto grazie al coordinamento grazie alla giuria grazie per averci dato questa menzione speciale per questo prodotto per questo strumento importantissimo per i ragazzi con bisogni comunicativi speciali noi siamo un'associazione di genitori di ragazzi autistici e avevamo bisogno di questo strumento perché i nostri ragazzi non possono usare i diari come tutti gli altri perché hanno un pensiero che si sviluppa per immagini e quindi il loro diario naturalmente deve avere determinate caratteristiche oltretutto hanno bisogno di sapere quello che succede durante il giorno perciò con un gruppo di lavoro composto da dalla nostra associazione più una cooperativa che è Fabula Onlus più una fondazione che è Fractalimina Onlus e con il grande contributo di Smemoranda che ci ha aiutato nella progettazione diciamo di questo strumento noi ne abbiamo siamo riusciti a realizzarlo prima non c'era adesso c'è l'abbiamo stampato in 2000 copie e distribuito gratuitamente in tutta Italia certo ce ne volevano dieci volte tante di copie adesso cercheremo i fondi per continuare questa distribuzione grazie davvero e complimenti grazie mille assessore vi lascio al centro per la premiazione allora io prima di proseguire vorrei ricordarvi che alla fine delle premiazioni ci sarà un rinfresco ci sarà un rinfresco bisognerà uscire dalla parte sinistra sì sì dopo dopo ci sarà non adesso ci sarà dopo un rinfresco assolutamente non scappate ma a tal proposito vorrei ringraziare i propri sostenitori coloro che hanno sostenuto questa iniziativa e anche il rinfresco a iniziare dalla pasticceria Cucchi che ha una storia veramente di 80 anni e da qualche anno è addirittura entrata a far parte dei locali storici d'Italia facciamo un applauso alla pasticceria Cucchi che ha reso renderà più tardi molto più dolce questa questa serata e poi all'azienda agricola Luciano Brega 80 ettari di vigneto situati nel mio bellissimo oltre poco avese mio perché sono nato e cresciuto là e poi la scuola di formazione Galdus facciamo un applauso collettivo anche alla scuola di formazione Galdus davvero a proposito dato che fuori fa ancora freddo non è che sia proprio estate immagino che qualcuno di voi avrà lasciato il guardaroba giacche e sciarpe sappiate che chiude alle 20 e 30 quindi prima magari di andare a fare mi assicura che finiamo prima non dovesse andare così fate un salto al guardaroba ok allora proseguiamo andiamo avanti abbiamo adesso come vi dicevo c'è una sorpresa perché Panettone d'Oro 2020 ha voluto ha voluto consegnare in questa serata in questa occasione dei premi speciali sono degli attestati di incoraggiamento di incoraggiamento a delle associazioni a delle realtà che magari sono neonate che ci sono da poco tempo pochi mesi pochissimi anni ed è proprio un modo per incoraggiarle ad andare avanti a combattere tutte le difficoltà per proseguire nel percorso che hanno intrapreso e allora io direi di cominciare con il primo attestato sono faremo velocemente ma è davvero importante che ci sia questo riconoscimento intanto chiamo qua vicino a me Salvatore Crapanzano per la consegna e chiamo sul palcoscenico nel frattempo vi spiegherò anche la ragione Marcos Cappato facciamo un applauso a Marcos Cappato che eccolo qua per la determinazione mostrata nell'affermare e proseguire il diritto allo studio non solo per se stesso ma per tutte le persone che riducendosi i contributi per l'assistenza non hanno più la possibilità di raggiungere le scuole autonomamente attestato di incoraggiamento a Marcos Cappato vorrei aggiungere una sorpresa chiedo a Roberto Bagnato di venire su nel senso che non è assessore non è presidente di anzi di una allora questo signore che adesso mi aiuterà a premiare Marcos l'abbiamo premiato nel 2013 quindi diciamo parecchi anni fa e il Corriere della Sera l'ha chiamato l'angelo invisibile lui giustamente essendo da poco tempo diventato visibile e non penso considerandosi un angelo ma esatto e quindi gli darò anche la parola ma è quella persona e quindi mi sembra non solo opportuno dirlo perché come è stato già detto da molti molte persone non si vogliono far notare e impiegare più di sette anni per farsi notare è stato penso una notevole fatica e lui è quello che ultimamente e chi legge i giornali se ne accorge ha ritenuto opportuno aiutare questo ragazzo perché attraverso le leggi nuove che si fanno a livello regionale per cercare di ridurre le spese hanno pensato bene di dimezzare in alcuni casi il contributo per chi deve andare con dei pulmini a scuola e quindi siccome la metà che rimaneva era sempre una metà pesante a questo punto lui è ritenuto opportuno come fa in diversi casi e quindi è meglio è ritenuto opportuno diciamo contribuire per un anno intero a questa spesa che non è una spesa di poco conto e quindi ritengo opportuno che il premio glielo dia lui più che oltre alle parole che vorrei dire grazie mille Salvatore l'unica cosa che grazie Salvatore l'unica cosa che che ci tenevo a dire è che il mio amico Gian Giacomo Schiavi a cui devo questa non voluta notorietà dopo 16 anni di collaborazione insieme al Corriere è che non ho mai condiviso la sua definizione di angelo perché quello che faccio non ha niente di angelico risponde semplicemente a quello che è un dovere sociale chi ha la fortuna come nel mio caso di avere come dico sempre indispensabile necessario superfluo al dovere di condividere con chi non ha nulla o chi in difficoltà grazie mille di cuore a tutti voi vuole dire qualcosa volevo farle fare una battuta no magari voleva dire qualcosa a Marcos sì io non posso fare altro che ringraziare Roberto e ringraziare tutti quelli che mi hanno permesso di essere qui a ritirare questo premio e sono molto contento di poter continuare a lottare per questo tipo di cose adoro questa città questo paese e credo che alla lunga potremo fare grandi cose e per questo combatto sempre io aggiungo un'altra cosa che ringraziamo sempre di cuore Roberto che ci ha aiutato ma quando è successo questo tante tante persone ci hanno chiamato ci hanno comunque fatto sentire che come si diceva prima Milano è bella è bella la gente perché nelle difficoltà si unisce e aiuta e era molto presente quindi veramente grazie a tutti e ancora una volta grazie a Roberto che è una persona fantastica quindi grazie veramente grazie a voi naturalmente lascio spazio per le foto di Rito chiedono ai fotografi una foto tutti insieme quindi se volete potete stringervi intorno a intorno a Marcos per questa foto ricordo di questo momento più stretta più stretta abbracciatevi abbracciatevi datevi un bel abbraccio ecco qua allora proseguiamo chiedo Salvatore Carapanzano di rimanere qua vicino a me mentre mentre sta proseguendo mentre mentre sta proseguendo signore che aveste visto prima io l'ho chiamato l'angelo invisibile ma perché è il progenitore di un inserto che il Corriere della Sera pubblica ormai da due anni che si chiama Buone Notizie lui è stata la prima buona notizia che il Corriere della Sera ha pubblicato e per pubblicare questa notizia ho dovuto raccontare la storia di tutti gli interventi di solidarietà che lui aveva fatto e non sapevo come chiamarlo perché lui non voleva apparire quindi non aveva il nome e allora angelo invisibile è come siete tutti voi siete tutti angeli invisibili grazie grazie per aver fatto uscire con il ciclo su Brahms la musica classica dagli spazi tradizionali e aver fatto così scoprire ai milanesi luoghi poco conosciuti della loro città e per aver devoluto i proventi dell'iniziativa alle associazioni che li ospitavano per i concerti premio di incoraggiamento all'associazione Marco Budano eccoli qua buonasera ricevono il premio buonasera benvenuti buonasera buonasera tutti voi prego mettetevi al centro buonasera buonasera riceve pure il premio facciamo la consegna ufficiale grazie noi siamo molto grati e onorati di ricevere questo premio non solo per il prestigio della giuria ma anche per l'importanza di coloro che hanno ricevuto i premi e i riconoscimenti oggi anche noi siamo partiti da un grande dolore dalla perdita di un figlio che era un promettente musicista e a lui è intitolata l'associazione e grazie a due musicisti di grandissimo livello che sono qui accanto a me Alice Baccalini pianista e Giorgio Casati violoncellista che sono stati i direttori artistici di questa iniziativa abbiamo messo insieme non solo la prima iniziativa musicale completa sulla musica da camera di Brahms a Milano ma abbiamo unito anche il sociale perché l'iniziativa è stata itinerante in tutti i luoghi di Milano comprese le periferie più isolate dove normalmente la musica colta non arriva e abbiamo cercato di coinvolgere nel piacere della musica come anche momento di crescita culturale per tutti perché con la cultura si può migliorare la condizione della vita la condizione sociale di tutti quanti e quindi speriamo di poter continuare e nel prossimo maggio faremo una sorta di festival a Morimondo perché abbiamo anche iniziative su Morimondo dove c'è una abbazia splendida una tre giorni dal 7 al 8 10 maggio e sarà tutto un weekend dedicato alla musica e alla cultura e speriamo di vedervi numerosi grazie e quindi ci vediamo là grazie mille a voi mettetevi pure al centro per le foto adesso chiamo Giuseppe Failla qua vicino a me per l'impegno profuso nell'unire in gruppo varie associazioni per creare momenti di aggregazione e socializzazione tra gli abitanti dei quartieri di Villa San Giovano Precotto e Gorla con l'obiettivo di organizzare eventi e attività utili alla comunità recuperando anche tradizioni storiche a volte dimenticate attestato di incoraggiamento all'associazione Vi Prego buonasera buonasera complimenti grazie e ovviamente ringrazio tutti per questo premio inaspettato e soprattutto un incoraggiamento per noi ci vuole coraggio perché essere nuovi richiede molto coraggio perché si parte con tanto entusiasmo e magari ci si scontrano con delle cose che non si riesce a fare allora l'entusiasmo e l'incoraggiamento serve quindi è un premio secondo me azzeccato ed è un premio proprio che ci portiamo con forza avanti e cercheremo di fare un 2020 ancora così intenso come è stato il 2019 e vi prego noi abbiamo iniziato proprio con questa parola che suona un po' come slogan vi prego aprite quella porta porte se ne sono aperte tantissime nel quartiere non pensavamo neanche si continuano ad aprire porte come la porta che si è aperta di questo teatro porte che dal virtuale si affacciavano sul reale e siamo riusciti a coinvolgere tante persone questo ci ha incoraggiato dietro questo lato l'incoraggiamento a continuare e a crescere insieme al quartiere quindi è un premio che dedico al nostro quartiere perché senza di loro non abbiamo fatto nulla al nostro staff chiamiamolo così Alberto Trapani che è la nostra mente vulcarica e insomma a tutti i presenti grazie grazie mille con l'augurio che si aprano sempre più porte davvero grazie di cuore rimanete al centro intanto io chiamo Franco Beccari qua vicino a me per la consegna del prossimo premio per la volontà di aggregarsi e attraverso il gruppo condividere esperienze bisogni e tempo per sostenere i malati di demenza e i loro familiari collaborano con diverse realtà associative e non del quartiere di via Padova per riportare il malato al centro della comunità cercando di combattere vergogna e stigma sociale attestato di incoraggiamento agli smemorati di via Padova eccoli che arrivano a ritirare il premio buonasera buonasera benvenuti buonasera e complimenti buonasera buonasera facciamo pure la consegna ufficiale del premio eccolo qua al presidente al presidente allora io mi metto mi metto qua in mezzo lei va di salutare il nostro pubblico sì intanto ringrazio ringrazio tutti per averci dato questo premio che appunto è un incoraggiamento a continuare spero che però fra dieci anni non ci sia più bisogno di un'associazione come la nostra perché ci saranno molti più servizi ma soprattutto perché ci sarà una cura per i malati di demenza che è quello che spero giusto ottima osservazione devo dire grazie mille a tutti voi grazie mille grazie grazie mille state pure al centro per la foto adesso chiamo il nostro presidente di giuria Gian Giacomo Schiavi qua accanto a me per l'ultima consegna dovrebbe esserci anche il sindaco vero me lo confermate se c'è il sindaco non lo so il sindaco di Peschiera Borromeo è qua presente qua in sala è qua in sala beh è qua ok allora io la invito a salire sul palcoscenico la invito a salire sul palco il sindaco di Peschiera Borromeo Caterina Molinari perché perché stiamo per premiare una scuola per aver realizzato dal 2017 anche fuori Peschiera Borromeo sotto la guida del maestro Angelo Mantovani e la gestione dell'associazione APE molte attività extra scolastiche gratuite a carattere volontario da parte di docenti personale organizzativo e dirigenti con l'obiettivo di avvicinare tutti all'arte dei suoni l'attestato di incoraggiamento va alla scuola civica di musica Giampiero Prina complimenti buonasera buonasera io rappresento l'Accademia dei Poeterranti sono il presidente quindi sono onorata del mio ruolo APE compie dieci anni quest'anno e dal 2017 gestiamo una realtà bellissima che è la scuola civica Giampiero Prina di Peschiera Borromeo dove abbiamo trovato un territorio accogliente dove i nostri insegnanti hanno potuto mettere del loro con tanta partecipazione io il merito non è solo mio il merito di tante persone tra cui il fondatore insieme a me Attilio Bergamin il maestro Angelo Mantovani che è direttore didattico della nostra scuola e ringrazio anche l'amministrazione comunale che ci permette insomma di fare molto la scuola civica è una realtà davvero davvero importante e speriamo di proseguire questo bellissimo percorso iniziato appunto nel 2017 grazie a tutti lascio magari una parola al sindaco a inizio serata abbiamo sentito una bella suggestione dal dottor De Bortoli sulle comunità di qualità le comunità che hanno cittadini che sanno spendersi in questo caso calza pennello e l'impegno anche da parte delle amministrazioni di cercare di coltivare nei propri cittadini non solo qualità sociali ma anche aumentare il livello culturale cercare di stimolare nei nostri ragazzi ma anche nei nostri adulti la passione per la musica la passione per lo studio la dedizione deve essere uno degli obiettivi anche delle amministrazioni comunali quindi nel meccanismo un po' perverso dei bandi pubblici però siamo stati fortunati e quindi questa bella collaborazione sta portando i frutti per i quali è nata quindi grazie al vostro valore al vostro impegno per quello che fate grazie e complimenti state pure al centro per la foto e allora grazie mille ancora grazie a tutti voi dunque siamo arrivati quasi alla conclusione ma prima di salutarvi e di lasciarvi al rinfresco io vorrei chiamare qui sul palcoscenico il presidente del coordinamento comitati milanesi Salvatore Crapanzano che è già qua eccolo qua pensavo se ne fosse andato no invece è qua è qua difficile la lascio accanto al leggio grazie per i saluti finali io volevo ringraziare il nostro diciamo factotum visto che è stata una sorpresa anche per noi cioè l'effervescenza è stata grazie grazie mille resa pubblica grazie di cuore davvero grazie grazie a voi grazie allora mi tocca come tutti gli anni le conclusioni beh dire che sarò breve non lo devo dire altrimenti rischio di essere lungo invece sarò veramente breve ricordo che tra pochissimo potrete come si usa da tantissimo tempo prendere un bicchiere di vino e una fettina di panettone che sono da sempre associate a questo premio avete sentito questa sera tantissime considerazioni ovviamente non voglio riprenderne nessuna perché spero che buona parte di questo sia rimasto e che serva da esempio noi quest'anno abbiamo cercato di innovare prima di tutto abbiamo cercato di ridurre il numero di premi perché rischiavamo di dire dei no nel riempire la sala però poi alla fine abbiamo come avete visto aggiunto questi cinque premi che abbiamo chiamato di incoraggiamento perché in generale volevamo premiare chi era costante da molto tempo invece in questo caso abbiamo visto che era non solo opportuno ma diciamo necessario andare a evidenziare anche dei soggetti che hanno bisogno come è stato ricordato anche da loro di incoraggiamento e quindi fare in modo che queste realtà che nascono da mesi un annetto in certi casi possano essere anche attraverso questo momento di notorietà essere maggiormente sostenuti di vi prego quel diciamo avete visto il premio di questa associazione volevo sottolineare che è un caso un po' particolare perché mette insieme attraverso il vi che vi la San Giovanni pre che è precotto e go che è gorla mette insieme associazioni in realtà che già esistono e che è giusto che collaborino di più insieme e che quindi riescono a avere come in effetti sono riusciti in poco tempo riescono a avere risultati molto maggiori tra l'altro una notizia che mi sembra opportuna perché un minimo di spot pubblicitario si potrebbe dare ma l'angelo bagnato andrà precotto per una serata durante la Civil Week se ricordo bene il 6 il 5 il 5 di marzo quindi guardate anche i suoi giornali mi sembra opportuno non dimenticarsi il 5 di marzo di andare nel salone parrocchiale di precotto per sentire diciamo un esperto del settore che però è esperto anche come avete visto sul lato non soltanto del raccogliere fondi attraverso le azioni le obbligazioni eccetera ma anche a distribuire una parte di quello che si guadagna quindi c'è pochissimo da aggiungere c'è soltanto da dire che si spera sempre che queste giornate che alle quali non dovete dare a noi dei ringraziamenti perché sono fatte apposta per dare ringraziamenti a voi e quindi non è che possiamo girare su questa questione sono sicuramente faticose ma sono anche molto molto utili speriamo sempre che siano utili il difficile non è diciamo avere un momento di di sensibilizzazione perché è chiaro tante realtà che noi pensiamo possono servire da esempio che rincuorino anche i volontari che pensano di essere molte volte soli nel loro lavoro invece non è assolutamente vero De Bortoli ci ha detto che il volontariato è forte in tutta Italia io posso dire che nell'era milanese è particolarmente forte particolarmente forte perché qui c'è una situazione più più attiva che assolutamente può diventare molto più attiva questo non c'è il minimo dubbio ma che è giusto che noi riconosciamo ricordiamo e attraverso anche il Corriere della Sera che con buone notizie ha cercato di ricordarsi che c'era l'altra metà del cielo di cui parlare in questo caso non è uomo o donna ma è buona notizia e cattiva notizia e diciamo la gente ha bisogno anche non soltanto di sapere le ultime le ultime brutte notizie di cui si è sempre informatissimi ma anche sapere che la buona notizia è quella che continua a sostenere la vita di tutti noi altri e forse in certi casi la sostiene ancora meglio quando non la si sa però saperla ogni tanto aiuta quindi direi grazie a tutti grazie alla giuria e chi ci ha aiutato grazie a voi che siete intervenuti e ovviamente grazie a tutti i premiati e a quelli che non ci sono riusciti perché premiarne di più era facile ma non c'è stato possibile grazie ancora Presidente vogliamo dare l'appuntamento all'anno prossimo al 2021 beh l'appuntamento adesso scherzando uno prima mi diceva ma perché non prendiamo un premio noi gli ho detto beh l'unico premio che possiamo fare è che facciamo un anno sabbatico e il prossimo anno non diamo il premio in questo caso sarebbe diciamo un aiuto dal punto di vista della fatica no il prossimo anno ci sarà sarà il 22 sarà può essere qui o in qualche altra situazione noi non vorremmo superare i 500 posti come sala non abbiamo la voglia di andare in posti più grandi e fare spettacolo anzi vorremmo rendere e quindi ringrazio anche chi questa sera ci ha aiutato a presentare tutti i premi vorremmo che la gente abbia più tempo anche con meno realtà a capire meglio quello che ci sta dietro sono due o tre anni che vorremmo anche farvi vedere qualche video per far capire che non è quattro righe che porta il premio ma è una sintesi di molte volte molto faticosa di quello che è stato fatto quindi con il sanbiaggio del prossimo anno i giorni sono più o meno questi perché noi abbiamo giocato sul fatto che sanbiaggio è il protettore della gola e del naso e quindi a questo punto il periodo sarà e l'altra cosa che posso ricordare poi chiudo definitivamente senza avere altre domande ancora esatto l'altra notizia è che verso settembre cominceremo a mettere sul sul sito panettonedoro.it il modulo e lo dico per quelli che non lo sanno perché è anche un meccanismo interessante chiunque conosce qualcuno che nell'area di 133 comuni quindi della città metropolitana di Milano pensa che si meriti un premio può benissimo scrivere mi chiamo e mette il nome e cognome dice chi vorrebbe segnalare per il premio tra le centinaia delle segnalazioni che arrivano e tocca poi a noi faticare a scegliere quelli che in parte sono diciamo particolari da questo punto di vista quindi sicuramente non conta niente se uno ha una segnalazione o ne ha 20 anzi volte volte quando ne ha 20 noi puntiamo ad essere un po' preoccupati bene mi dicono che hanno tutti fame e vogliono andare a mangiare grazie ancora di nuovo buona serata a tutti grazie